Verso le mobilizzazioni antirazziste e antifasciste del 12 e 15 dicembre. Dalla Grecia all'Europa, austerity e default della democrazia. Dibattito con... Da Atene, Chiesa e Nosotros. Atene Colling. Collettivo Brassemolo. Max Guareschi. A seguire, Cena Greca e DJ Set. Venerdì 30 novembre, ore 18.30. In cantiere, via Montero 84, Milano. Cantiere.org